Io ringrazio tutti perché sono stati due giorni che esistono molto belli, come abbiamo detto ieri in inaugurazione, forse siamo anche riusciti insieme a fare piccolissimo dono a quello che io voglio essere, la bellezza salverà tutto e lo pensano, è vero, lo pensano a tutte le persone che insieme a me e insieme a tutte le persone che hanno collaborato con questo evento sono riuscite a creare un po' di gioia e di pace perché questo l'abbiamo veramente discusso. Siamo qui vicino a me anche Gianni Bruscato, nostra inizienda, nostra insegnante Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Servitevi dentro dove ci saranno le nostre ragazze che vi prepareranno, vi serviranno quello che volete e poi vi ci possiamo incomodare fuori che fa più presto. Grazie a tutti, siete stati meravigliati. grazie mille. 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 Grazie mille.